Buongiorno, oggi facciamo il libro L'oracolo dell'amore. Voi pensate a una domanda o un desiderio e in base alla risposta che vi dà il libro giustamente dovete aggregare un po' la risposta. Giustamente non sarà per tutti perché comunque di solito si fa per una persona alla volta qui dipende chi lo guarda, comunque cercate di metterlo un po' sì e no, diciamo così. Se proprio non coincide vuol dire che questo messaggio non era per voi. Allora, fate la vostra domanda e il vostro desiderio come volete. Allora, questo è il disegno e sono usciti. Allora, è estratto l'otto di spade. La gelosia non dovrebbe essere tollerata. Allora, io la interpreto così. Se siete sia uomini che donne, intendiamoci, gelosi di qualcuno o qualcuno è geloso nei vostri confronti, cercate di non esagerare con la gelosia perché secondo me, parlo anche per esperienza personale, non c'entra niente, ok? Però la troppa gelosia può creare dei problemi. Questo è ciò che ho capito io di questo libro perché è da poco che l'ho ritrovato e sinceramente mi dice questo. Se voi interpretate in un altro modo, giustamente mettetelo in base a come ve la sentite voi. Comunque, la risposta è questa. Vi auguro una buona giornata.